Buonasera, anche se sono i 6.20 perché come vedete l'ora solare fa tutto questo, meno di in questo nuovo video, un video diverso dal solito perché si parla di calcio ma dall'aspetto tecnico del canale perché alcuni non hanno capito probabilmente cosa vuol dire tifare e cosa vuol dire simpatizzare. Sapete che qui sul canale c'è il binomio, la squadra che dì fondamentalmente si simpatizza a New York, la piccola città di New York, quindi vado nelle live degli altri e dite che non sono un vero intervista perché tifo lo Sheffield, io non so, io non so, che poi, lo Sheffield, manco sta in Italia, è un'idea più ignorante, bisogna istruirla questa gente che dice questo, e quale modo migliore è per guardare i video, infatti io lo Sheffield lo porto in italiano a posto perché non sono inglese, il mio inglese fa caricare, ma non è detto che porto solo Sheffield, se riesco vedo un'altra partita di Premier League, non è un problema, però scendere il tifo dal simpatizzare, ragazzi, mi raccomando non fate questo errore perché, perché sì, perché ho deciso di simpatizzare una squadra inglese, come c'è chi simpatizza Marsiglia, cose varie, c'è chi simpatizza Sheffield United, ma c'è gente che simpatizza Manchester City in Inghilterra, come c'è gente che supporta Tottenham, si simpatizza e Chelsea, magari non questo Chelsea, ma in passato simpatizzavano Sheffield, e Chelsea, che mi viene inniato a dire che io non sono un vero interista, non è vero, gente che non segue neanche il canale, gente che non guarda neanche i video e dice che non sei un vero interista perché tifo in due squadre, ma non va, ma questa gente lo sa, lo sa, lo sa, lo sa, perché me l'ha detto in faccia, cioè me l'ha detto in live ieri in Inghilterra, quindi dovete stare in live e imparare l'italiano, probabilmente. questo è il video, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, sabato c'è Atalanta Inter alle 18, alle 16, sempre di sabato, c'è Sheffield Wolves, non lo so se porto partita, perché dovrei fare come col Tottenham a inizio d'erro io, non lo so se porto in mezzo, non lo so scende, perché lo Sheffield si simpatizza, l'Inter si tifola. Grazie a tutti.